Allora, sono la madrina delle giurie Unicef dei bambini, kids e teens, quindi un po' più grandi. E li aiuto un po' nella scelta dei cortometraggi vincitori per la fine del festival. E faccio anche un piccolo workshop di animazione in stop motion, che si chiama Il poema animato. Allora, io avevo avuto un film in selezione qua nel 2017, che si chiama Merlot, che avevo fatto con un'altra regista, Giulia Martinelli. Quindi eravamo già state in selezione, ma non eravamo potute venire. E Morena, che si occupa dell'organizzazione delle giurie dei bambini, mi ha contattato per diventare madrina, quindi finalmente sono potuta venire. Caspita, è difficile. Beh, vacanze, perché ho la testa lì. No, ma due parole non le so. Boh, casa in realtà. Mi sento molto a mio agio, non mi aspettavo che fosse un festival organizzato da gente giovanissima. Scrivendo per mail pensavo fossero tutti più organizzati, invece sono tutti ragazzi giovani. Quindi è piacevole, mi sento a casa. Grazie. 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 Grazie.